Per la nostra sezione ABC Parkinson oggi parliamo di dolore. Di certo chi soffre di Parkinson può essere affetto anche da altre patologie, artrosi, artrite, lombalgie che causano dolore, anche se un dolore senza ragioni evidenti è una manifestazione che colpisce un malato di Parkinson su tre. Questo dolore, spesso localizzato agli arti inferiori, è percepito come rigidità eccessiva, crampi, spasme muscolari o dolore muscolare in genere. Le cause del dolore nella malattia di Parkinson non sono ancora chiare e spesso si tende a collegare questo problema ad uno dei sintomi motori principali, ovvero la rigidità. Spesso i pazienti sperimentano questa problematica durante le fasi off. Esiste poi una evidenza di una maggior sensibilità al dolore dei malati di Parkinson che contribuisce a completare il quadro. Che cosa si può fare? Molte persone trovano utile fare esercizi di stretching, farsi massaggiare o automassaggiarsi e anche fare dei bagni caldi. Altri trovano particolarmente utile eseguire degli esercizi di allungamento muscolare abbinati alla respirazione, come ad esempio quelli proposti nello yoga. In altri casi invece si può provare ad intervenire anche con delle pratiche come ad esempio la mindfulness. Se il problema persiste è consigliabile parlarne con il proprio medico e provare con farmaci da banco a base di paracetamolo, facendo attenzione a non superare le dosi prescritte. I dolori di entità severa sono un chiaro segno della necessità di parlare con il neurologo. È spesso il dolore infatti un indicatore della necessità di rivedere il dosaggio dei farmaci. Molte persone hanno episodi di dolore in concomitanza con le fasi off, dicevamo, ovvero quando i farmaci non stanno lavorando al modo migliore. In questo caso è utile verificare con il medico come si possano ridurre le fasi off e se questo intervento diminuisca o meno il dolore. Se questo intervento non dovesse essere sufficiente allora sarà il neurologo ad indicarvi altri farmaci per tentare di risolvere il problema.